RADONIC secondo in Coppa Italia Frecciarossa, terzo gol stagionale per il serbo arrivato dal Marsiglia l'apertura larga Radonis, buono il controllo poi colpo di Tago per voi Voda, mette il cross a cercare Pellegri, Donnarumma con il petto Pellegri supera Maniero e poi la mette in porta, ha raddoppiato il Toro 2 a 0 anche Pellegri aveva già segnato in Coppa contro il Palermo Toro che colpisce ancora, indirizza la sfida Schurz il Cervec centrale, avanza palla per voi Voda con il tacco la palla di ritorno e Schurz trova il suo primo gol italiano 3 a 0 ha segnato l'ex Ajax per Schurz grande azione la seconda vergogna è numero 3 per Roma la battuta del corner dentro Zima c'è anche una deviazione 4 a 0 del Toro il gol di Zima il primo italiano per l'ex Slavia Praga l'evucata di Echidior il controllo di Sanca lo scambio con verde palla dentro ancora Sanca per il controllo di Strelitz d'esterno la mette in porta e stavolta è tutto buono 20 minuti Spezia 1 Brescia 0 al picco la prima rete stagionale di David Strelitz lo scambio Sala per Verde pensa al tiro lo prova è nel raddoppio Spezia 10 nella ripresa 2 a 0 seconda rete in questa Coppa Italia per Daniele Verde la torre di Olm il pallone recuperato da Strelitz dentro Olm prova a sfondare chiuso da pace palla buona per Strelitz la mette sotto la traversa doppietta personale 3 a 0 Spezia Olm fermato così da pace palla in cattività buonissima per il 44 attacca il Brescia con Bertagnoli allarga a sinistra per pace il cross in mezzo stacca Moreo in anticipo su Zut la rete del 3 a 1 la firma di Stefano Moreo in anticipo sul portiere dello Spezia Somm sterza col sinistro il cross secondo palo Benedisiac colpo di testa e vantaggio del Parma al 29esimo 1 a 0 Benedisiac il primo gol stagionale per lui il primo anche in Coppa Italia Freccia Rossa l'anno scorso 6 gol per lui in Serie B con il Parma Valotti uno contro uno Valotti sistema per il destro che finisce sotto l'incrocio per il vantaggio del Monza ancora in gol in Coppa Italia Freccia Rossa Mattia Valotti dopo quello al Frosinone si ripete con deviazione Samarzic Lovric a rimorco Beto di Tacco per Neuwen Perez ci ha preso Gusto Perez dopo il gol all'Atalanta segna anche al Monza il difensore ma che magia di Beto con il Tacco super assist 1 a 1 Samarzic subito per Pereira dietro per Perez la prima doppietta in carriera di Neuwen Perez aveva fatto un gol in tutta la sua carriera negli ultimi 10 giorni 2 al Monza stasera e 1 all'Atalanta in campionato è cambiato il mondo assistenza a destra dove arriva il cross col pali di Tacco Padelli ancora non bene Molina è entrato da un minuto fa 2 a 2 la mossa di Palladino Salvatore Molina pareggia la partita Molina ancora per Petagna controllo Petagna in mezzo a tutti Petagna la mette sul sinistro il primo gol con la maglia del Monza di Andrea Petagna è un capolavoro assoluto se li porta tutti a spasso come al campetto 3 a 2 partita capovolta Buonaiuto Occhio al numero di Buonaiuto che si defila guarda in mezzo parte il traversone secondo Palo Chereche vantaggio Cremonese al 77 è 1 a 0 in favore della squadra di casa secondo gol in Coppa Italia Frecciarossa per Occhereche 1 a 0 Occhio a Buonaiuto che va col destro Buonaiuto traversa e poi tap in di Apena Gian all'84 raddoppia la Cremonese primo gol in grigio rosso per l'ex Roma 2 a 0 Occhio a Dio che va a battere sotto l'incrocio 2 a 1 la riapre il Modena all'89 palla all'indietro per Andri che sbaglia tutto 2 a 2 al 91 clamoroso neanche il tempo di battere a centrocampo e il Modena in 10 pareggia Occhereche Escalante poi Aschisibar poi il tocco per Sernicola che fa 3 a 2 al centodecimo minuto di gioco secondo supplementare la Cremonese passa con Sernicola assisti Aschisibar Ancora Aschisibar tocco per Sernicola che punta l'aria prova a calciare e trova il gol del 4 a 2 che probabilmente chiude definitivamente la partita Palla indietro per Lascoli che rischia si inserisce Sapiri strappa Verre sulla palla recuperata da Sapiri Verre in campo aperto Verre fa col piede sinistro e porta avanti la Samp sfruttando la palla recuperata da Sapiri gran lavoro in interdizione del marocchino qui l'opportunità di andare a calciare nemmeno col piede preferito per Verre Botteguin supera la linea di metà campo va col filtrante si inserisce con l'ocolo un lampo dell'Ascoli all'improvviso 1 a 1 gran lavoro del brasiliano colloco lo resiste e va in porta allo spigolo Bidawi la finta palla sotto la sola ancora Bidawi dentro per Gondo che va di sponda e poi Donati è quasi un rigore e avanti l'Ascoli l'assist di Gondo per Donati insiste la Samp che ci crede ancora a Ugello morbido col sinistro per Caputo Ciccio Caputo 2 a 2 trascina la Samp ai rigori orsolini dalla bandierina dentro l'area la deviazione in porta ci mette la testa Nico Jannis ultimo tocco di Obert un autogol a portare avanti il Bologna 1 a 0 si sblocca 20 minuti dalla fine la partita del Dallara a portare avanti